C'è in molti di noi la convinzione che le preghiere vere, le più autentiche di un credente, sono quelle sentite, per non dire spontanee, quelle che manifestano il tumulto dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. E questo è un problema in verità, perché Gesù stesso ha detto che i Suoi discepoli non dovranno pregare riversando come un fiume le loro parole, così pregano i pagani. I pagani chi sono? Sono quelli che adorano gli idoli da loro costruiti e noi, inseguendo questo spontaneismo nella preghiera, rischiamo di diventare proprio dei pagani, perché pregando così noi non cerchiamo il volto di Dio, ma ci fissiamo in fondo su noi stessi, sui nostri desideri, sulle nostre frustrazioni, su quello che vorremmo essere e non siamo. Ci costruiamo un idolo, appunto, una falsa immagine di Dio. Voi, quando pregate, dite. Introducendo così la preghiera del Padre nostro, Gesù ci dice anche che la preghiera vera, quella che tocca il cuore di Dio, non è un fiume tempestoso, il fiume tempestoso e ambiguo dei nostri desideri, ma è la parola stessa di Cristo che risuona nelle nostre labbra e scende nel nostro cuore. Voi, quando pregate, dite. A chi è tentato di indirizzare a Dio solo le sue parole, i suoi sentimenti, Gesù offre parole e sentimenti più sicuri, infallibili. Sono i suoi sentimenti, i sentimenti di Cristo, le sue parole. Fa parte di quel rinnegare se stessi, che è premessa indispensabile per diventare discepoli di Gesù. Ecco perché in questa rubrica, che ritorna dopo la pausa estiva, fissiamo l'attenzione sulla preghiera della liturgia, sulle orazioni, le preghiere, che spesso recitiamo in modo formale, mentre sono l'eco della preghiera stessa di Cristo, l'unica voce che può toccare il cuore di Dio. L'orazione di questa domenica è una bomba, se solo avessimo più consapevolezza del tesoro spirituale che possediamo nella liturgia. Viene dal sacramentario gelasiano, la faccio corta e ve ne offro una traduzione letterale. O Dio che manifesti la tua onnipotenza, soprattutto con il perdono e la misericordia, riversa su di noi la tua grazia, perché tu renda consorti dei beni celesti noi che corriamo verso le tue promesse. Oggi noi riconosciamo e confessiamo che la vera grandezza di Dio, la sua onnipotenza, consiste nel perdono e nella misericordia. Il perdono è un'opera ancora più grande della creazione, perché realizza davvero l'impossibile. Sconfigge il male, restituisce dignità, trasforma il male in bene, restituisce molto di più di quanto il male ha danneggiato. Il perdono infatti non ripristina la situazione precedente, ma ne crea una nuova e migliore. Tutti noi in fondo ne sappiamo qualche cosa, perché tutti sappiamo che il perdono costa, che il perdono è tutto tranne che un atto spontaneo, che il perdono vero è qualcosa di sovrumano, al di sopra di noi e delle nostre possibilità. Offrendo all'uomo peccatore la sua misericordia e il suo perdono, Dio lo fa essere ancora di più. Prima era un uomo, ora è un figlio. Con la sua misericordia Dio dona tutto se stesso. Questa dunque è la preghiera della Chiesa. Siamo il popolo dei perdonati, di coloro che hanno ottenuto misericordia e sono stati guardati con tenerezza. Non solo siamo stati tirati fuori dal fango, ma siamo avvolti dalle braccia tenerissime di Dio. C'è una parola dal sapore nuziale in questa preghiera. Consorti. Noi chiediamo la grazia di essere inondati come una cascata dalla grazia divina, per sposarci in modo unico, fedele e indissolubile all'amore di questo Dio onnipotente nel perdono.